Buongiorno mondo, io sono Caterina e benvenuti sul mio canale Oggi facciamo un giorno dove non si può parlare per 24 ore con la lettera O, perché ho fatto tipo suspense, non l'avete letto dal titolo Vabbè, comunque non possiamo parlare con la lettera O O, O, O O, O, vabbè Inizia ufficialmente da Ora non si può dire Da ora, 3, 2, 1, go! Allora È impossibile Bene, stiamo andando al Black Friday Facile Me e il mai ragazze acquistiam un PC e magari un... 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 di... Vestiti Difficile Quindi, niente Ci sentiam tra... Tra, tra A... un... 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 pazza Siamo arrivati La... la... il... quesito è Ci sarà... parking Perché l'universo sarà tutto qua Infatti... parking Iniziam... bene... a... che sedere! C'è... un... parking per... me e te Bravo! Delusione Saldi Niente Che delusione Niente saldi belli Più... per me Talmente delusi Che abbiamo deciso di mangiare Tre, due, tre Bisognerebbe mettere i saldi Anche Da Ikea Pensate Cioè Questi Gratis E niente Alla fine Abbiamo Acquistato Unicamente Una Ehm... una... 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 un Apple Watch Qui dentro c'è l'Apple Watch Questo Black Friday Delusione Per me e lui Pres Niente Unicamente Apple Watch Ma... Per... me E lui Quindi Andiamo a casa Senza niente Yeeeh! Siamo arrivati a casa E... Dobbiam Incartare i regali Un per complean di stasera L'altro per Natale Sper di incartare bene questi regali Perchè... Mmm... un cart... regali... da... tanto... tempo... Allora Tac... Nastr... Taglia... Galla... Bene A... te 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 Piace Incartare I... regali Mi... fammi... sapere Difficile Parecchi... difficile Sembra... una... pazza Ma... la... verità È... che... essere... me... una... pazza Sempre A... tra... Mica... tant... bell... è... venut Ma... importa... mmm... Il... pensier È... Mmm... 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 nooo... Mei... vide Tu... 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 tanti... tu... chiedere... sempre Quanti anni me... avere Me... avere... venti... quattro... anni E... me... vivere... in... Svizzera Negative Italia Italia Svizzera Mmm... va bene Basta... chiedere Uh... se... durante... il... vide... me... avere... usate... la... lettera... Prr... vita... e... accorta... tu... 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 tanti... tu... avvisare... perché... me... mmm... sapere... se... successe... stare... scrivend... Bigliet... tin... per... festeggiata... st... st... sudand... per... negazione... la lettera... davver... davver... quasi... difficile... giur... 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 si... l... v... i... a... t... v... m... g... l... i... a... m... 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 bene... Anche... scrivere... la lettera... prr... vita... e... perdere... perché... altrimenti... me... pers... perché... me... scritte... lettera... Facciamo... solo... Facciamo... solo... 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 E niente... penso il video più breve di tutta la storia delle storie delle 24 ore... Ero convintissima... Penso che in totale sia durato... 6 ore... al massimo... 24... proprio... cheat... Ero convinta di farcela... Ma la O... è davvero una lettera che c'è... Ovunque... Raga... ovunque... ve lo giuro... Pensate a una parola... ecco quella la O... Difficilissimo... per davvero... La prossima volta scelgo una lettera più facile... Quindi... niente... Io spero che malgrado questo... flop flop super flop... Il video vi sia piaciuto... Mi dispiace di aver fallito... Purtroppo fallisco anche io... Anche se... dico che non è vero... Perché io non fallisco mai... Lasciate mi piace se vi è piaciuto... Se non vi è piaciuto lasciatelo lo stesso... Perché tanto non vi costo niente... E rendo felice... ma... Sto parlando basso... Perché comunque... Dilace gente... E mi vergogno... Io vi mando tanti 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 tanti... Tanti tanti bacioni... E ci vediamo... Al prossimo video... Commentate con... Regina... Perché è Regina? Perché... Qua... C'è la foto con la Regina Elisabetta... Ciao...